Un bilancio soddisfacente è quello tracciato per il 2012 dalla sezione distaccata di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale, dove sono pervenuti complessivamente 1.931 ricorsi con loro decremento rispetto all'anno precedente di 185. Nel corso del 2012 sono stati deferiti circa 8.517 affari e questo risultato complessivo si aggiunge a quello consegnato nel 2011. Il buon esito, ha dichiarato il presidente della sezione di Salerno del Tar, Antonio Norato, è dovuto essenzialmente all'impegno costante, senza onere aggiuntivi, di magistrati e di tutto il personale amministrativo. Grazie all'intenso lavoro di tutti si è ridotto nel corso dell'ultimo triennio a meno di un terzo l'arretrato. Purtroppo negli archivi del Tar di Salerno continuano a giacere in attesa di essere esaminati circa 14.000 ricorsi. Salerno è una delle sezioni che funzionano meglio in Italia. Abbiamo avuto una buona produttività e speriamo che entro il 2014 dovremmo eliminare l'arretrato. Però ci sono ancora 14.000 ricorsi giacenti. Abbiamo avuto oltre 35.000, quindi siamo sulla buona strada. Nel desimmediato, addirittura, dopo 15 giorni dal deposito del ricorso c'è la sezienza, molte volte. Molte altre volte c'è bisogno di più tempo. Stanno abbattendo molto i tempi, siamo tutti già, normalmente ha durato un ricorso medio e un anno, un anno e mezzo. Prima era 6 anni, 7 anni. Entro il 2014 riuscirete a recuperare, insomma, in qualche modo questo? Sì, nel 2014.